Cassa Depositi e Prestiti, il gruppo bancario cooperativo ICREA e Ministero delle Politiche Agricole sono protagonisti del nuovo contratto di filiera dedicato al settore cerealicolo e del valore complessivo di oltre 27 milioni di euro. Destinatarie sono le imprese del settore che si trovano in Campania, Abruzzo, Puglia e Basilicata. Sentiamo. Cassa Depositi e Prestiti e il gruppo bancario cooperativo ICRE hanno pensato a un nuovo contratto di filiera inserito nel quarto bando dei contratti di filiera di distretto previsti dal Ministero delle Politiche Agricole. Si chiama Grano Armando Zero Residui, il progetto che conta su un finanziamento complessivo da 8 milioni di euro messi a disposizione dall'Istituto Bancario Cooperativo e da Cassa Depositi e Prestiti a cui si sono aggiunti contributi ministeriali e delle regioni Puglia, Basilicata e Campania per un totale di oltre 27 milioni di euro. Tra i beneficiari ci sono anche alcune aziende agricole pugliesi tra le 40 dislocate in altre tre regioni italiane Abruzzo, Lazio e Basilicata che hanno scelto di allinearsi a un modello di filiera caratterizzato da una specializzazione tra le funzioni base di produzione, stoccaggio, trasformazione e commercializzazione orientati alla massimizzazione degli obiettivi di sviluppo prefissati. Il progetto riguarda il miglioramento del livello di competitività e la sostenibilità economica dei produttori agricoli di base, oltre alla maggiore qualità e tracciabilità del prodotto finale e a una reale sostenibilità ambientale. Sono previsti anche interventi finalizzati all'innovazione di processo e di prodotto, all'implementazione delle attività di conservazione e stoccaggio e al rafforzamento dei legami in rete delle aziende agricole coinvolte. L'obiettivo finale del contratto di filiera è la produzione, distribuzione e commercializzazione di una pasta di grano duro a zero residui di agrofarmaci. Il contratto di filiera è stato realizzato anche grazie al coinvolgimento di cinque banche di credito cooperativo che sono di Santeramo, Canosa, Capaccio, Pessu, Messerino, Spinazzola e Gaudiano di Lavello. Con questa operazione vogliamo essere a sostegno di un prodotto che rappresenta un'eccellenza italiana anche nei mercati internazionali e allo stesso tempo che rispetta dinamiche legate alla sostenibilità ambientale, spiega Carlo Napoleoni, direttore generale di Icrea Banca Impresa. Il progetto per cassa depositi e prestiti è un modo per sostenere le filiere italiane, in particolare quelle del settore agroalimentare e accompagnarne la crescita nel mondo.